Ok, molto semplice, volevo domandarvi di cosa vi siete occupati nel film. Ci siamo occupati di un brano presente nella colonna sonora del film, sarebbe la traduzione di You're Welcome, quindi la versione italiana Prego. Ok, avete modificato qualcosa a livello musicale come arrangiamenti rispetto all'originale? L'arrangiamento è lo stesso, abbiamo solo tradotto il testo in versione italiana, quindi adattando le parole eccetera eccetera, però la versione è fedele all'originale. Quindi anche la sezione rap che a un certo punto si... La versione rap ho cercato di tenere i contenuti di quella americana, quindi il linguaggio, i messaggi, però giustamente il rap non puoi imitare la metrica già fatta, è come a un calciatore chiedere fammi i palleggi uguali a come l'altro calciatore, è impossibile, però noi ci abbiamo messo tutto l'impegno per cercare di riuscire a fare una cosa dignitosa, seria. Ma a vostro parere siete riusciti a essere simili a com'era impostata la canzone in originale? Io più che altro ho cercato quando ho tradotto il testo non di fare una cosa simile, ma di fare una cosa che allo stesso tempo rendesse l'effetto di quello che è stato fatto in passato, cioè che è stato fatto in precedenza con la versione americana, quindi qualcosa che emozionasse, grazie a Sergione diciamo che siamo riusciti. Però diciamo anche Rocco, non penso che lo vuoi dire per aver fatto veramente un capolavoro perché è stato difficile, non perché il, diciamo, the translation, però il motivo del canzone, il padre rappato e tutto, quindi era un capolavoro in i suoi paesi, diciamo, ci siamo riusciti a fare una bella cosa, il canzone è carina, è forte e quindi vedo l'ora che voi lo senti nel pezzo. Senti, secondo voi i temi importanti di questo film, perché secondo me ce ne sono parecchi, perché si intrecciano anche in un certo senso, io penso anche al tema ecologico, volendo, però c'è anche qualcosa di più, secondo voi che cosa c'è? Beh, in questo film, diciamo, io penso è più la forza di questa bambina, la forza di trovare la, diciamo, salvation per le sue famiglie, le sue città, la sua gente, anche per se stesso, trovare una cosa di, non lo so come spiegarti, cioè, trovare una cosa che lei c'ha, però ognuno di noi c'ha, abbiamo paura di buttarti, buttarti proprio nel mare, nell'ondo, cioè, quello. Non lasciarsi. Sicuramente, no, vabbè, la cosa, diciamo, fulgorante di questo film è che comunque la sorte del villaggio la prende in mano, cioè, le sorte del villaggio le prende in mano, insomma, la bambina, e quindi questa bambina si adopera per cercare di trovare un futuro migliore, ma non solo quando l'oceano la sceglie per risolvere questa situazione, ma già prima, insomma, già da piccola nel villaggio lei sistemava le capanne dove, insomma, gocciolava l'acqua, no, per dire, e quindi questo mostra, insomma, tutta la tenacia che hanno le donne, quindi anche la tematica di questo film magari è anche la donna messa al centro di tutto, al centro del villaggio, al centro dell'esistenza del mondo, no? Si vede già dalla nonna che, ovunque, è una persona molto carismatica, molto influente, e quindi questa nonna riesce a dare alla nipote i giusti insegnamenti affinché lei possa, insomma, svolgere questa missione all'interno dell'oceano. Ultima domanda, volevo sapere se, siccome c'è una lunga tradizione di cover nei film di animazione della Disney, sui titoli di coda, ci sono riarrangiamenti famosi, avete qualche vecchio arrangiamento, qualche canzone a cui siete rimasti molto legati dei vecchi film Disney? Ma io che ricordi l'arrangiamento di Aladdin, Il mondo è mio, di Gigi D'Alessio, no? Quello lì ricordo, perché comunque è un cantante molto vicino alla mia terra, e quindi ricordo quello che, diciamo, ebbe una vita propria quel pezzo, a prescindere dal brano. Credo che il segreto di un remake, se vogliamo chiamarlo così, è anche il riuscire ad avere una vita propria lontana dal film. Quando il pezzo diventa una hit, te lo passa alla radio, a prescindere dalla promozione del film, significa che uno ha fatto centro. Beh, anche io penso un po' di la musica di... Cioè, diciamo la verità, tutta la musica di Disney è sempre stato un capolavoro, però diciamo per me, in inglese è Lion King, The Circle of Life, e quindi c'è Circle of Life, c'è una cosa che ancora mi ricordo, che la posso cantare ogni giorno anche quando sono in la doccia, è la magica di Disney, che tutta la musica, tutte le cose che loro fanno, rimangono sempre in testa.